Hakuna matata ragazzi No ragazzi sto tiltando E' quel momento in cui non deve succedere in questi giochi Già vi ringrazio per i quattro frate Mi è tornato in stalla Nozzi Frate Frate Che lunghi Quelle unghiette mangiate Frate 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 Il porco dio di due frate Mi Mazzi che oggi se giocavi se non sono sul due Avevi sbancato avevi Sbancato 50 euro su cash ant Si si Chiama Oddio Si spacca Si spacca Si spacca Si spacca Si fanno i soldi signori Si fanno i soldi frate Si fanno i soldi frate Si fanno i soldi frate 5 minuti di stream Ma che cazzo sta a vedere Ma che è Gianmarco No Non mi sono giocato di nuovo No Che questa ormai l'hanno l'hanno capita Questa ormai la conoscono La conoscono troppo bene Bumpers Mi serve Un solo hit Mi basta Un'hittata Alla Bumpers Ma si Te pare che non fai più di 133 euro Eh Calla Mi serve Un'hittata Alla Bumpers Gaetano Tefi Grazie verità Bentornati Raga Grande bomba Fa esplodere Mette un po' di Gocomeri Cerca il vandalo della matassa Adesso sulla sinistra Cadono dei 7 Ma niente da fare Ed è una partenza Orribile Ed è una partenza Disgustosa Non ista nulla Signori Sono 20 euro di bonus No però c'è Sanigualdini Mamma mia C'è dopo il comeback Lo vedi La verità Sei sempre una sola Più fai la persona buona E più t'ha pinto il culo No si ma guardi i wild Che c'hai Cazzi i wild Ce l'hai tipo sempre Cappone Nel senso Non è che Eh però questi Se te fanno un'intata È goloso No Mamma mia 1 euro e 80 Davvero Manca a far così Ne è che T'ho insultata La madre Porco dio Minchia Eh bei soldi Hai visto Sono volati i soldi Proprio Oddio una bomba Se metteva i sette Se avesse messo dei sette Che si collegavano così Eh ma dovrebbe Ha dei simboli buoni Vai boom baby Bye Bye boom baby 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 Eccolo, il bumper che conosco, il bumper, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Eccolo il mio uomo, il mio uomo. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. I'm rich, 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 I'm rich. Franchi, potrei aver perso 200.000 euro, Franchi. Franchi, potrei aver perso due sordi, Franchi. Franchi, ho sbagliato, dai, ma perché mi avete detto, Tarzai è il valore. Franchi li rifamo, Franchi li rifamo, chill, chill, li rifacciamo. Guarda quanti soldi, guarda quanti soldi, guarda quanti soldi, Franchi. Oh, la puttana, Serafici, Serafici, mannaggia alla Madonna. Via qua, davoi Washington, Hollywood Los Angeles Napoli centro Cinisello balsamo Dove vuoi la casa che ti vuoi e che ti compro Dai che ti compro Che ho fatturato un po' di soldi oggi BB Flex Lucatmi li sto fatturando Mamma mia che mostro Gianmarco Tocco Ho insegnato una cosa Neanche ci si parla con End of Midas Se capimmo così con End of Midas Non gli devi di niente Mister Sto attento Infatti capo Ti hanno messo il coso tuo ti hanno messo finalmente Cioè hai fatto la collab E se va carai Il carai dove ti prevede A pezzo di merda La collab con Snap Camera Ma no 3 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 Vabbè io non noto la differenza tra i suoi occhi no frate non inizia a gufa porco dio che porti una zella guarda che merda no vabbè in realtà 18 sono buoni con 4 mani 18 senza un treno porco dio coda che t'avevo detto che t'avevo detto scopriare nella pazza sullo blocco azzì non c'è proprio veramente non c'è bisogno di far niente così stavano le max win quanto fai 5 mila euro la sto bonus si startano le max win di end of midas ma non ma startano quei 333 grazie per la schedina vinta grande rischia grande oggi già avete oggi oggi avete fatto spesa di bit ma che devi esagerare devi esagerare adesso che sei startata così calda un altro wildino no non deve la più alta perché devi fa così se sei frustrato porco dio credo che sei più sempre se il cazzo d'armonza appunto c'è un frustrato juventino di merda si appunto dai ce ne serve uno in quarta riga si guarda che potremmo fa lui e il triangolo delle bermuda se ne mette uno qua è finita è il triangolo delle bermuda no mister flame no te prego porta suona e suona subito ora subito il drink in 20 euro basta ora parlo io ciao già non sono molto felice oggi twitch mi ha finalmente dato la mia prima paghetta minore di 3 dai e me ripazze gode dai regà e mettici il cazzo del wild qui fratelli te prego ma perché devi fa lo stronzo ma io me lo caccio fuori ah 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 danza del wild non serve a un cazzo danza del wild eccolo buono 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 pure lì ci piace però deve potete deve sasperare qui deve sasperare deve sasperare un wildino qua dio porco dio oh cristo ma zio ma si pianghe eh si porco di esagerato zio porco dio si questo è effettivamente si ma deve mettere i simboli boni deve mettere ma deve se è il bonus o rifamo ma deve mette i simboli umani mamma mia anzi se ita un simbolo buono adesso esplode se per qualche motivo gli prende il matto che mette mitas qui e mitas qui sono tipo mille euro ci serve mitas o grande o grande stregone di ghiaccio quant'è che l'hai pagato il bonus dubiotte ma che cazzo ma possibile eh sì se esce il simbolo buono eh sì eh sì questi sono tantissimi ma capace che ma potrebbe essere max win no possibile non ci arriva dipende no dipende da che simbolo esce cioè max win è sì e 5000 per la puntata che l'avevo detto ma poi questi sono tantissimi perché quelli sono tutti wild questi anzi 161 euro con simboli di merda cioè se esce un simbolo un po' più umano sono 500 bomboli a giro ma cioè se ah sì se lì davanti è ecco può esplodersi no questi ah sì non voglio questi sono più dei 500 euro capo se chiudeva la linea col vecchio se chiudeva la linea col vecchio questi si sono no so 3 e più oddio no 3 e 60 mi pareva 500 è perché non collega quello a destra non arriva quanti si ne rimangono due no impossibile vince sta partita è un buon primo bonus mi verrebbe da dire non voglio esagerare non voglio non voglio i time idas non te va dei time idas te conosco io a te maialone non li vuoi i time idas non li vuoi i time idas capo sono tanti si capo se 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 me se li metteva in quinta fila capo no zio non smette più non smette più le fatidni ri din 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 a zi dom lo fai con il suo 94 di corsa sulla fascia insieme ad akimi Porco Dio, 1600 per la puntata